Una preghiera per il dono della pioggia. Arriva l'esortazione del Vescovo della Diocesi di Nocera Sarno, Monsignor Giuseppe Giudice per l'emergenza siccità che sta segnando profondamente la vita di tanti lavoratori. Le ondate di calore anomale e l'assenza di precipitazione di questi ultimi mesi hanno messo in ginocchio l'agricoltura e causato seri danni alle attività produttive e all'ambiente. All'Angelus e nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, Papa Francesco aveva invitato a riflettere sulla tutela del creato che è responsabilità di ciascuno di noi. Il futuro della terra, affermato il Pontefice, è nelle nostre mani e con le nostre decisioni. E l'impegno dei fedeli, oltre che le doverose scelte di rispetto dell'ambiente nelle azioni quotidiane e tutela del creato, passano anche per la devozione. È una preghiera di intercessione, quella proposta dal Vescovo Giuseppe, affinché arrivino le tante attese precipitazioni. Stiamo vivendo un tempo di grande siccità, che è un'altra pandemia che si aggiunge alle tante già presenti, affermato Monsignor Giudice. Mentre apprezziamo gli sforzi che gli esperti e il Governo stanno mettendo in atto per risolvere quest'altra crisi, noi come credenti non possiamo sottrarci alle nostre responsabilità. La fede vera, alimentata dalla sana tradizione, sa che a Dio nulla è impossibile. Per questo vi invito a pregare, per chiedere al padrone del campo il dono della pioggia. Il suggerimento poi ai parroci di sostituire alla preghiera dei fedeli, la preghiera composta da San Paolo VI e pronunciata all'Angelus del 4 luglio 1976, altro periodo difficile di siccità.